che io chiudo la voi state meglio no vogliamo riaprire noi ma è logico che poi arriva la lotta di classe perché se io continuo a vedere voi che cosa voi che fate sto lavoro brutto ora che cosa vi ho detto come si sente al posto mio che non lavora e vado in un centro commerciale vendono tutto mi spieghi ma non è giù io sto morendo di fame